Si è andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te camminare. Vai. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai che è camminare qua? Ma non è camminare qua. E' sto 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 qua. con la testa. E' sto qua. 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 E' sto qua.